Allora, signore e signori, mancano in questo istante 60 secondi. Vi saluto su un paesaggio della memoria. Vi saluto qua. Che dire, grazie ancora, grazie, seguito e preferito, continuate a farlo, cercateci. Noi siamo sempre in onda, io e i miei colleghi siamo malati di questo mestiere, non ci lamentiamo, è difficile, è duro, ma ci piace il nostro mestiere, non c'è niente da fare, se no non lo faremo. Quindi cercateci e ci troverete ancora. Non troverete il telemarket, però vogliatemi bene, insomma, ricordatevi questa telemarket, io ad esempio, grazie a voi, grazie a chi ha diretto l'ultima trasmissione di telemarket, a parte tecnica, a Massa, ad Alessandro e ad Andrea, grazie a Valcentralino, ad Alice e a Maria Giulia, e un grazie agli assistenti di studio, questa sera. Dunque, grazie a Andrea, Massimo, e questi sono i tecnici, Alessandro, bene ragazzi di studio, e sicuramente grazie anche a tutti quelli che non c'erano stasera, ma che hanno lavorato fino a po' di ore fa, grazie a tutti quelli che hanno lavorato in questa televisione, che rendeva così grande nel corso degli anni. grazie ancora davvero, ci vediamo presto, e ancora un basso a Giorgio e a Donatella, un basso a tutti, ciao a tutti, ciao.